Adesso una parentesi più leggera, nel parco dei divertimenti di Miragica a Molfetta è stato battuto il record dell'orecchietta più grande del mondo, guardate. Esperimento perfettamente riuscito, l'orecchietta più grande del mondo è servita, 70 cm di diametro per 1,6 kg di peso, record abbondantemente superato e ingresso di diritto nel Guinness dei Primati. L'impresa, diciamo così, è avvenuta all'interno del parco dei divertimenti Miragica di Molfetta, il merito è tutto di Pierino, titolare di un ristorante a Cisternino in provincia di Brindisi e delle sue assistenti. Come si fa un'orecchietta gigante? Prima di tutto bisogna avere una bella semola rimacinata, acqua e sale e poi due belle braccia forti perché ci vuole una grande forza per fare un'orecchietta gigante. Come si fa l'orecchietta gigante signora? Con tanta forza e ci vuole anche la passione. Se non hai un po' di passione per le cose non vengono bene. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Credo di esserci riusciti. Gli organizzatori parlano di un nuovo modo per promuovere i prodotti e le materie prime del territorio pugliese. Abbiamo utilizzato tutti i prodotti locali, tra l'altro il nostro artista Pierino di Cisternino, abbiamo utilizzato il formaggio di Marte, pasta a gran oro, quindi il nostro obiettivo è creare una forte sinergia con il territorio.